Per il tau calcio arrivano i tre punti che mancavano da sei giornate e per il bel gioco si dovrà attendere ancora, ma va bene così. Maffei conferma il tridente con Benedetti al centro, Unti a sinistra e De Petri avanzato esterno destro. Il ruolo di regista è affidato come al solito a Pellizzari, che se la deve vedere con Rivas e Fabri, tra i migliori della formazione fiorentina insieme a Casini e ex Roma, rientrato alla base per una stagione. Al primo affondo i padroni di casa passano, Benedetti controlla defilato a sinistra, si libera di un avversario e lascia partire un diagonale perfetto che si insacca sul secondo palo. Passato in vantaggio il tau fatica a controllare e ripartire concedendo due occasioni agli ospiti, la prima all'undicesimo sventata da Corti che esce con i piedi su Di Ninni, la seconda al 25 quando Passignani di testa sfiora il pareggio. Solo Unti al 37 prova a tirare in porta ma al suo destro è ribattuto sulla riga da un difensore. Nella ripresa sale in cate del portiere Luca Corti, al terzo fa il miracolo sul destro di Picci che stava già gridando al gol, al quinto para sul colpo di testa di Nardi e si ripete al 42 sullo stesso Nardi. Se il tau può festeggiare il ritorno alla vittoria, il merito è anche suo.